Attenzione, Ferentino sotto di due, palla in mano, 42 secondi, 70-68, vantaggio Paffoni, vuole il blocco, Guarino, uno contro uno con Bertolazzi, vada a Gagliarda Carrizzo, gioco a due con Guarino, 4 secondi, Guarino è costretto alla tripla, ma che tripla, incredibile, 27 secondi! Attenzione adesso la Paffoni che ha ripreso il gioco, 18 secondi, ci sono 3 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 riservato alla Paffoni e quelli della partita, prova Masciadri, la tripla sul ferro, rimbalzo, tap out, si vada a Saccaggi, il fallo di Guarino, direi speso benissimo, Bertolazzi vada a Casadei, 5, 4, Casadei riesce a servire Picazio, si alza Picazio per la tripla, non va! Il rimbalzo di Etioha, il colpo, il colpo di Ferentino al Palabattisti di Omenia, 71-70, vittoria FMC, guardate l'entusiasmo dei tifosi, Granata con i giocatori in campo a festeggiare, non è finita, si tornerà in campo giovedì, ma che colpo quello di Ferentino, Claudio Vandoni! Una partita sempre in bilico, una partita giocata molto bene dagli allenatori, direi che la presenza di questi allenatori ha significato veramente una partita giocata di qualità. Confermo che questa serie meriterebbe la quinta partita e non la chiusura a tre. La pazienza di Ferentino nel continuare a difendere credendo nella zona e non lasciandosi condizionare non solo da qualche canestro, ma anche da qualche rimbalzo. E poi la grande duttilità, la grande personalità di due giocatori che nel momento che contano hanno fatto la differenza giocando insieme come l'ultima zona specificata. Abbiamo visto salutarsi i giocatori in campo che saranno di nuovo di fronte giovedì 10 maggio a Ferentino.